L Segreto, puntata di giovedì 23 marzo 2017. Finalmente la verità? L'amore vince su tutto. Momenti ad alta tensione caratterizzano le anticipazioni della puntata Il Segreto di giovedì 23 marzo 2017, perché Camilla riesce finalmente ad aprire la cassaforte di Hernando, e quel che troverò al suo interno la lascerà senza parole. Francesca sorprenderà Severo, donando una grossa somma di denaro alla Fondazione Santa Cruz. Qual è il suo scopo? Mencia, intanto, sta per partire, ma Carmelo la raggiunge alla stazione e le dichiara tutto il suo amore. Prima parte delle anticipazioni. I misteri di Hernando. L'intuizione di Camilla si rivela giusta. La data di nascita di Beatriz è la combinazione che apre la cassaforte di Hernando. Finalmente la donna riesce a scoprire qualcosa di davvero sconvolgente. All'interno della cassaforte, infatti, la Val de Salce trova una cartellina contenente delle foto in cui è ritratta Beatriz Bambina insieme ad una donna e ad un altro bambino. Il mistero, però, a questo punto si infittisce. Chi sono queste persone? E come mai Hernando conserva tanto gelosamente le fotografie della giovane Mella? Seconda parte. Il secondo fine di Francesca. Nel frattempo Francesca, dopo una conversazione con un uomo misterioso, deciderà di devolvere una cifra molto consistente come donazione alla Fondazione Isabel de Santa Cruz. Severo è estremamente sorpreso dal gesto, che non si spiega soprattutto alla luce dei suoi burascosi rapporti con la matrona. Francesca, del resto, non ha mai fatto niente per niente, ed appare dunque quanto meno curioso che ella decida di finanziare una fondazione benefica sostenuta dai Santa Cruz. Qual è dunque il piano della Montenegro? Ultima parte. L'amore vince su tutto. Intanto Mencia Ruiz si prepara a lasciare Puente Viejo, come aveva annunciato a Carmelo. Quest'ultimo deciderà a questo punto di tentare il tutto per tutto, e la raggiungerà alla stazione. Qui riuscirà ad arrivare in tempo prima della partenza del treno per Madrid, e confesserà alla giovane di amarla. Fra i due ci sarà un bacio. Mencia cambierà idea e resterà a Puente Viejo decidendo di vivere la sua storia d'amore con Leal. Nel frattempo, troviamo Acque agitate in casa Miranar. Onesimo comincia a speculare in borsa e Di Polito si interroga sulla provenienza di tutto quel denaro da investire, mentre Rosario rimprovera Dolores, che a suo parere non tratta adeguatamente Gracia, una ragazza onesta e dolce. Intanto, a Los Manatiales si prepara la festa per il diciassettesimo compleanno di Beatriz, mentre il passato di Hernando sta prepotentemente venendo fuori, anche se troppe cose ancora non sono chiare. Cosa nasconde il misterioso Dos Casas? Nelle prossime puntate Il Segreto, potremo finalmente trovare la risposta a tutte le nostre domande, ma questo sarà preludio a nuovi intrighi e situazioni di pericolo che vedranno coinvolto proprio Hernando.